Sei pronto per l'esperienza? Preparato Preparato Listo Sempre Il reposto a casa? No Il legno l'ha lasciato in natura 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 Rodilla a la derecha, perfetto. Empuja, empuja. Quetate, quetate. Ora, il sentito è, mettere il T nel tavolo. Empuja. Empuja. Che passa campeon. Che dici, ti è piaciuto? Mi è piaciuta molto, molto molto. Bellissima esperienza. Un po' come te l'aspettavi. Me l'aspettavo un po' diversa. Diciamo un po' più... ...movervi. Che mi dava un senso più di vertigine, un po' di vertigine soprattutto. In realtà è stato molto pacifico come esercizio. Quindi devo dire che è stato molto più... Emozioni diverse. Ho provato di quello che aspettavo. Molto, molto bello. Molto pacifico. Grande. Grazie. Grazie.